E le cellule vegetali? Sono cellule molto speciali perché producono autonomamente l'energia di cui hanno bisogno attraverso la sintesi clorofiliana. Per questo si dicono autotrofe. Dove avviene la fotosintesi? Qui, all'interno dei cloroplasti, che non troviamo nelle cellule animali. Questa struttura molto estesa è il vacuolo, che nelle piante immagazzina sostanze di riserva come l'acqua.